La storia di un mondo ossessionato dai beni materiali La storia dell'acqua in bottiglia La storia di un mondo ossessionato dai beni materiali La storia di un mondo ossessionato dai beni materiali La storia di un mondo ossessionato dai beni materiali La storia di un mondo ossessionato dai beni materiali Nei anni 70 i grandi produttori di bibite Si preoccuparono di non vedere stabilizzarsi Le loro prospettive di crescita C'è un limite alla quantità di soda che una persona può bere Inoltre dopo poco La gente avrebbe capito che non è così salutare E sarebbe tornata a bere Acqua del rubinetto Quindi le aziende trovarono un'altra Grande idea in un prodotto dal design Sciocco che i più derisero come una moda di passaggio L'acqua è gratis Rispose la gente Cos'altro vogliono venderci? L'aria? Quindi come riuscire a vendere questo prodotto di nicchia? Semplice Si costruisce la domanda Come si fa? Beh, immaginate di essere a capo di un'azienda di acqua in bottiglia Siccome le persone non fanno la fila Per scambiare i loro soldi duramente guadagnati Con prodotti inutili Li fai sentire impauriti ed insicuri Qualora non li avessero Ed è esattamente quello che ha fatto l'industria dell'acqua in bottiglia Una delle loro prime tattiche di marketing È stata spaventare la gente a consumare l'acqua del rubinetto Con annunci come quelli della campagna Fiji Quando avremo finito Disse un dirigente dell'acqua in bottiglia L'acqua del rubinetto sarà relegata alle docce al lavaggio dei piatti Poi nascondi la realtà del tuo prodotto dietro immagini di pura fantasia Avete mai notato come l'acqua in bottiglia cerca di sedurci con immagini di rivoli di montagna e natura incontaminata? Ma indovinate da dove proviene un terzo di tutte le bottiglie d'acqua di USA Dal rubinetto L'acqua fina della Pepsi e la Dasani e della Coca Cola, ad esempio Sono solo acqua del rubinetto filtrata Ma la bugia della natura incontaminata va ben oltre In un recente annuncio a tutta pagina La Nestlé ha detto L'acqua in bottiglia è il prodotto consumer più rispettoso dell'ambiente al mondo Che cosa? Stanno distruggendo l'ambiente per l'intero ciclo di vita del prodotto? Di preciso come è rispettoso dell'ambiente? Il problema inizia qui Con l'estrazione e la produzione Dove il petrolio è usato per fare le bottiglie di plastica Ogni anno fare le bottiglie utilizzate dagli USA consuma petrolio ed energia sufficiente Per fare il pieno a un milione di auto Tutta quell'energia spesa per fare le bottiglie Ancora di più per trasportarle in giro per il mondo E poi la esauriamo in circa due minuti Il che porta al grande problema all'altro capo del ciclo di vita Lo smaltimento dei rifiuti Dove finiscono tutte queste bottiglie? L'80% va in discarica Dove rimarranno per centinaia di anni Oppure in inceneritori che le bruciano rilasciando sostanze tossiche Il resto è raccolto per il riciclo Ero curiosa di sapere dove finiscono le bottiglie che metto nella raccolta differenziata Ho scoperto che carichi navali le portano in India Allora ci sono andata Non dimenticherò mai quando guidando verso Madras Sono arrivata faccia a faccia con una montagna di bottiglie di plastica dalla California Il vero riciclo trasformerebbe queste bottiglie in altre bottiglie Ma questo non è ciò che stava avvenendo qui Invece queste bottiglie erano destinate ad essere peggio ciclate Cioè trasformate in prodotti di minor qualità Destinati a diventare rifiuto in seguito Le parti che non possono essere peggio ciclate vengono buttate qui Trasportate fino all'India solo per essere scaricata nel giardino di qualcun altro Se le aziende di acqua in bottiglia vogliono usare le montagne nelle loro etichette Sarebbe più appropriato mostrare queste montagne Spaventarci, sedurci e indurci in errore Queste strategie sono tutte parti chiave di costruire la domanda Una volta che hanno costruito tutta questa domanda creando un nuovo mercato plurimiliardario Lo difendono massacrando la concorrenza Ma in questo caso la concorrenza è il nostro diritto umano fondamentale Bere acqua pulita e sicura Il vice di Pepsi ha detto pubblicamente Il nemico più grande è l'acqua del rubinetto Vogliono che pensiamo che è sporca e che quella in bottiglia è la migliore alternativa In molti posti pubblici l'acqua è inquinata grazie ad aziende inquinanti come l'industria delle bottiglie di plastica E questi tizi dell'acqua in bottiglia sono molto felici di offrire le loro costose soluzioni Che ci mantengono schiavi dei loro prodotti E' tempo di tornare al rubinetto Cominciamo con l'impegno personale di non comprare o bere acqua in bottiglia A meno che l'acqua nella vostra comunità non sia davvero insalubre Sì, ci vuole un po' di organizzazione per prendere una bottiglia riusabile uscendo di casa Ma possiamo farcela Quindi, andiamo al posto successivo Prendiamo parte a una campagna che lavori per soluzioni reali Come richiedere investimenti in acqua del rubinetto pulita per tutti Ne usa l'acqua del rubinetto in debito di 24 miliardi di dollari In parte perché la gente pensa che l'acqua da bere provenga solo da una bottiglia In tutto il mondo, proprio ora, un miliardo di persone non ha accesso ad acqua pulita Eppure ovunque le città stanno spendendo milioni di dollari per gestire la plastica delle bottiglie che buttiamo Come sarebbe se questi soldi fossero spesi per migliorare i nostri sistemi idrici O ancora evitare l'inquinamento che da essi proviene? Ci sono molte altre cose che possiamo fare per risolvere il problema Richiedere all'autorità cittadine di rimettere le fontane Lavorare per bandire l'acquisto di bottiglie d'acqua nella tua scuola, nel tuo ente o intera città Questa è un'enorme possibilità di svegliarsi per milioni di persone E proteggere il portafoglio, la nostra salute ed il pianeta La buona notizia è che tutto questo è già iniziato Le vendite dell'acqua in bottiglia hanno iniziato a crollare Mentre gli affari stanno esplodendo per le bottiglie riutilizzabili Wow! I ristoranti stanno servendo acqua del rubinetto E la gente sceglie di risparmiare le centinaia di migliaia di dollari Che starebbe altrimenti buttando via con l'acqua in bottiglia Portare con sé acqua in bottiglia sta per diventare figo come fumare incinta Ora sappiamo che c'è di meglio L'industria dell'acqua in bottiglia si sta preoccupando perché è finita la pacchia Noi non compreremo più grazie alla loro domanda costruita Grazie, ma ora sceglieremo noi le nostre richieste E richiederemo acqua sicura e pulita per tutti Doppiaggio e montaggio audio di Alice del Movimento 5 Stelle Palermo